Si vede sullo sfondo una Corsica Ferris, la nave gialla. A questo proposito un piccolo aneddoto. Io ieri e mia moglie eravamo all'interno del porto di Ligurano dove si sono quelli che si sono andata all'uscita con le traini nel porto di Livorno per il carico e scarico. Cos'è questa novità? Ho scoperto che quella nave che vedete sullo sfondo gialla non è una nave sola, sono due navi copia praticamente in fotocopia. Infatti io ieri nel porto ho visto arrivare la prima e contemporaneamente uscire l'altra. Quindi significa che sono state moltiplicate i tratti di modo che sia un percorso continuo appropriato soprattutto nel periodo nel quale, come in questi tempi, c'è molta frequentazione all'isola di Capraia e quindi chiaramente non è come l'inverno che si fa assenno una gita, un tragitto. In questo caso qui i tragitti sono doppi e vanno e vengono e quindi vengono e vanno e vengono con le capine quasi piene, devo dire. Arrivederci. Stop. Ciao.